un saluto a tutti gli amici di sport today e a chi ancora non è nostro amico e non sa che a breve lo diventerà oggi vi voglio spiegare che cos'è sport today siamo partiti in quarta ma ancora non abbiamo avuto il tempo di spiegarvi che cosa facciamo e chi siamo sport today è una piattaforma che vuole parlare di sport nasce da un'idea di golden flamingo un'agenzia di comunicazione di milano siamo beh io che sono beata fra gli uomini ci sono andrea edo franci carlo este qualcuno lo conoscete già ma vi prometto che a breve ci conoscerete tutti quanti e li porterò uno per uno di fronte a questa videocamera per alcuni sarà difficile ma è una promessa noi vogliamo parlare di sport a 360 gradi questo perché questa è la nostra passione in comune non vogliamo parlare solamente di calcio vogliamo dare voce a tutti gli sport e a quello che è il mondo sportivo abbiamo individuato delle rubriche di interesse comune ogni settimana e leggeremo miss e miste sport today vi porteremo alla memoria uno spot e un film con argomento lo sport parleremo di un personaggio che ha fatto la storia dello sport italiano poi ci saranno tante interviste e delle chicche che non posso svelarvi subito seguiteci e lo scoprirete insieme a noi se vi interessa e volete partecipare a qualcuno dei nostri video avete un consiglio per tutti gli amici sportivi oppure siete dei tifosi volete farci sentire i vostri cori oppure avete un prodotto super di moda che farebbe impazzire tutti gli sportivi e volete farlo conoscere al mondo beh scriveteci io vi linko qui sotto il nostro indirizzo mail mandateci una mail noi vi risponderemo e verremo da voi vogliamo veramente mostrare il mondo dello sport a 360 gradi quindi mettete mi piace alla pagina seguiteci su instagram i link sono sempre qui sotto e visitate il nostro sito www.sport-today.it restate in contatto perché abbiamo tante tante sorprese per voi ciao un bacione